Ma che film? Cos'è che hai trovato? Il primo porcino Il primo porcino della storia di Pierce Il primo porcino della storia di Pierce Questo è uno che conosco Questo è uno che conosco da quando andiamo all'asilo E sono riuscito a portarlo a funghi adesso che abbiamo 30 anni E' già una bella soddisfazione Quell'altro che ha dimenticato il pelapa Perché lui va in giro con il pelapatate Non va con il coltello, no L'ho lasciato a Genova Quindi non poteva fare a Genova-Varese Vai, vai, raccogli sto fungo Eh, ma mi serve il coltello Ma va, tira, ma che coltello Tira su con le mani Si gira? Di là che non si vede niente Di qua? Di qua Così? Vai Sto raccogliendo, eh Sì, non dirmi che va sotto tanto perché è piccolo È un'emozione Com'è? È duro? È duro? È bello? Cazzarola, sì Bene Sono contento Bravo Stasera si cucina Bravo Sono contento È che se ci alziamo che c'è qualcun altro Lo facciamo ancora Su Bravo Troppo facile Questo è già secondo Che culo ragazzi Eh, ma... Oh, due funghi sulla montagna Li ha trovati lui Prima volta che erano funghi Bisogna respirarlo il fungo Dai, dai Anche quella... Una volta che lo respiri li ritrovi Anche quell'altro là forse trova qualcosa Dai, vai Tiriamo su Dai che devo andare da quell'altro, va Uh, che gambotto Minchia Ma come va sotto? Dio caro che bello Bravo Oh, ostia Bravo Emozione Eccola la seconda lacrima Vai Ed eccola qui Voi non potete non usarlo Io sì Dai, sniffa Sniffa Sì, ne ha fatti due Dai, vai Due? Oh, che bello Sì, belli Cioè, due Uno più uno praticamente Dai Vai Com'è? Sono belli? Bravo Sì, sì Sono belli Sì 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 Ecco se no Cos'è il video? Ancora Siamo a 43 Però ho detto di stare in silenzio Perché c'è la gente Sì, ma c'è la batteria scarica Quindi vai Quindi posso anche parlare forte? No Vai Tiro su Dai Bello Bravo Sì, ma c'è la mia Sì, ma c'è la mia